Bella ragazzi, io sono Canon, se oggi vi faccio vedere un gameplay con il Barret calibro 50 giusto per farvi vedere quanto è potente quest'arma e quanto sbilancierebbe il gioco se l'avessero tutti a disposizione dal menu perchè vi ricordo che quest'arma bisogna trovarla in mezzo alla mappa e non è presente nel menu di gioco diciamo Bene, godetevi il gameplay, bella Grazie 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 Grazie